c'erano un milione e mezzo di persone e poi il pontifice ha partecipato a un pranzo privato per poi recarsi all'università cattolica, finalmente è andato al centro storico a piazza San Francesco dove si è riunito con la società civile e ha finito la giornata con una visita alla chiesa a compagnia di Gesù nel Parco Bicentenario ci sono state anche tante denunce per furti di cellulare e macchine fotografiche durante la messa multitudinaria nei presi del aeroporto di Quito il Ministerio della Salute aveva piazzato 60 tende e 5 spirali da campo dove più di 1000 persone sono state assistite per ipertermia, malattie respiratorie, colpi di soli e esbenimenti il Papa Francesco ha lasciato l'Ecuador il Boeing 737-700 della Compagnia Aerea Boliviana di Aviazione ha decolato alle 12.59, 19.59 ore italiana dal aeroporto Marecciallo Sucre verso la Bolivia dal aeroporto Marecciallo Sucre verso l'Ecuador ora si, la musica del Ecuador ascoltiamo al Grupo Sudacaya Calla, il brano Ciudad Fantasma, Città Fantasma. Calla, il brano Ciudad Fantasma 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.